I signori io non lo so Allora Sergio, ma sai che subito non l'ho riconosciuto quando sei segregato? Ma che io? Ho visto uno specchiettino con una maglia bianca Ho detto ma... tutta bianca Ho detto moh Ho detto questo è un infiltrato Qui è sceso e è venuto vicino Ciao E' un infiltrato, sai come il matrimonio no? No perchè non riesco a mettermi nel casco Ho anche gli occhiali Hai un po' qua qua Ti rompi gli occhiali così e si rompi C'ho il casco un po' più grande E' quello che ha avuto un incidente Solo che sai... Qua c'è? Saluti Saluti A fine era il suo youtube eh Perchè poi se fai così Ok